Ciao ragazzi, belli e brutti, oggi vi presenteremo Minecraft e il nostro canale è TG Minecraft e ora vi presenteremo i nostri nomi. Allora, io mi chiamo... Io mi chiamo Container200, lui il mio amico Pignatta... Aspetta un attimo, un'iscussione. Pignatta43 e il mio amico 14. E del mio fratello. Ciao! Ciao ragazzi! Bella a tutti! E brutti! Vabbè... Ora vi presenterò... Bella cosa sul suo conto. Aaaaaaah! Come stai Pignatti sconfiggendo la scelta! Comunque... Comunque... Io mi chiamo Pignatta43 e prima era sbagliato nel seguente video ho detto un altro numero... Il mio amico 14. E praticamente... Mi tirate un pugno in faccia e vi do le caramelle. Ehm... Ehm... Levati! No, vai! Cazzo... No, vai! E tu! Ehm... Ehm... Io sono... Ehm... Io sono... No... Container... 200. Container... In realtà si chiama Raffaele. Lui scientifico è mio fratello Arturo. E io sono Pignatta che vi do le caramelle. Ma lei mi chiama Fabrizio! Ehm... Oggi vi presenteremo questo video. Ehm... Sta penendo male! Musulli! Ehm... 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 Comunque... Ed è un libro? No, ricordo... Da... Ehm... Ehm... No! Ehm... 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 Ma ragazzi... Comunque... Mi farò vedere un attimo questa cosa! E poi ve lo spiego! Non ve lo faccio vedere così cosa succede, perché... Vediamo un po' di goglia! Se ne vediamo prima di iniziare un minecart! Un due! Un due! Uno solo, vabbè Facciamo così, guardate Mettiamo un carrello, prendiamo Visto? Ovviamente si blocca Normalmente, ovviamente Ma non metto troppo, ovviamente Ma se facciamo così Visto, abbinare è cambiato Che brutto Per quanto E' oltrepassato il muro Sto Slam Ammazzo Ci rompe Oh, metti sopra il carrello Oh Gesù, è tornato veramente indietro Allora, è andato di qua Perché Gesù Cristo è così Sì, comunque Quella è la riproduzione Della Una fortezza del sottomondo Vabbè, conto E' morto, mio padre Porca puzzola Stavo per dire un'ultra cazzo Però va bene Quindi allora sarebbe Porca Dobbiamo risistemare Spendere la leva Ora vi mostrerò un po' il mio mondo Questo Aspettate Mi serve un oggetto utile Tipo un blocco di diamante Un oggetto utile Oggetto inutile Oggetto utile Inutile Utile Inutile Utile come questo E inutile come questo Questo E' un piccolo meccanismo Con qui Una piazza di pressione Di legno Scienziato 2015 Solti un po' zitto va Mi chiamo scientifico Quattardici Questo non sa nemmeno il mio nome Qua dietro Dei pistoni appiccicosi Un blocco Mettete Un circuito di redstone Fino alla piazza di pressione E due blocchi d'acqua Tutto il resto lo li coprite Col materiale Che volete Ma qui Ci deve essere per forza Pietra luminosa E volevo di dietro Così fate un po' Luce Questo funziona così Praticamente Ma non mi sembra Quanta luce in più Praticamente Voi fate così In realtà ci dovrebbe essere Fin dall'inizio Un oggetto utile sopra Poi quando dovete buttare qualcosa E non sapete dove buttarlo Perché ogni volta Ve lo fa riprendere In modo strano Fate così Venite Prendete l'oggetto utile Questo coso Si ritrae Butta Cazzo c'è la costa qua Buttate Oh aspettate Arfanco Te la mori Non mangi Ah vuoi morire Ne posso? Non mangi Non mangi Non mangi Non mangi Non ti do il pranzo Cioè non ti dai Maggi mammina Non mangerai il pranzo La cena O che Cristo vuole Te lo mangierai Spia Oh Ma ho mollato Il lingotto di ferro Bravo Che culo Vabbè ruba Ancora Vabbè